Situazione di impasso sulla Scala dei Turchi, non si può accedere, ci sono delle transenne, continuiamo ad assistere a scenari un po' così insoliti, multe da una parte, turisti dall'altra che cercano di accedere comunque. Che cosa ne pensate, qual è la posizione del FAI a riguardo, posto che voi avete investito molto anche sul Belvedere e su questo sito? Intanto noi abbiamo vinto il premio Paesaggio e Legalità con la Scala dei Turchi, quindi prima di tutto il rispetto della legalità, se in questo momento c'è un problema effettivo anche di incolumità è necessario che venga rispettato, quindi le transenne è giusto che ci siano, è giusto che ci sia un controllo, un controllo che credo ci sarà anche da parte del Comune. Poi devo dire per quanto riguarda il problema dei turisti, i turisti possono arrivare fino a qualche metro se vogliamo dalla Scala dei Turchi, quindi comunque ne possono godere così come ne possono godere anche dal Belvedere. Non necessariamente bisogna entrare, toccare la Scala, magari piantarci un ombrellone, si può benissimo godere anche in questo senso e per questo che noi abbiamo posto in essere anche il Belvedere che poi è stato allargato. Come pensate che si possa risolvere la questione? Sicuramente anche collaborando con le istituzioni, con le amministrazioni locali? Perfetto, l'obiettivo che abbiamo raggiunto anche il Belvedere o l'abbattimento giù dell'immobile è stato associazioni e istituzioni insieme e lo stesso lavoro dobbiamo continuare a fare anche adesso, quindi siamo vicini all'amministrazione, l'amministrazione pensava per esempio a una passerella, lasciamo che questa passerella venga presa in considerazione anche dalla soprintendenza che deve esaminarlo e in ogni caso le soluzioni troviamole insieme, questo sicuramente è importante. Una soluzione che può essere praticabile quella della passerella, vi piace? Beh, non conosco neanche com'è questa passerella, però intanto aspettiamo, prima di criticare, aspettiamo che la decisione venga presa dalla soprintendenza, credo che il Comune l'abbia posta alla soprintendenza. I problemi si creano anche perché prima questo bene era poco visto, adesso ci sono tantissime persone, forse più di quelle che vengono alla Valle dei Templi che vogliono prenderlo in considerazione, allora qui affrontiamo i problemi insieme, intanto stabiliamo di chi è la proprietà, siamo davanti al Tribunale, affronteremo anche questo tema dell'accesso alla Scala dei Turchi, in ogni caso già è possibile per i visitatori, lo ricordo, accedere e comunque farsi una fotografia insieme alla Scala dal Belvedere. Tema di grande attualità in questo periodo, se ne parla molto, è il viadotto Agregas, la riapertura, la possibile demolizione. Voi cosa ne pensate? Beh, io penso che intanto è una grande opera di architettura, stiamo attenti prima di pensare alla demolizione perché ci vuole una via alternativa, in ogni caso però c'è un altro aspetto che voglio evidenziare, cioè da quando ci sono stati gli abbattimenti anche della Scala dei Turchi, oggi tutto è diventato possibile, tutto può essere preso in considerazione, anche lì è necessario che associazioni e istituzioni insieme trovino la soluzione migliore anche per la viabilità. Sulla Scala dei Turchi comunque continua l'attenzione da parte del FAI, ci saranno altre iniziative, volte anche a valorizzare il sito e a renderlo sempre più noto. Assolutamente sì, devo dire che il FAI è sempre interessato alla tutela e alla valorizzazione e credo a fine maggio arriveranno dei registi internazionali che manda il FAI per fare un servizio sulla Scala dei Turchi e in particolare sull'allargamento, così come è importante la data del 30 maggio quando riparte il censimento ai luoghi del cuore, da cui tutto è cominciato e credo anche in quella conferenza stampa ci sarà un richiamo bello, anche importante, a un obiettivo realizzato come quello della Scala dei Turchi.